Buongiorno ragazzi, benvenuti all'undicissima lezione del corso di sociologia dell'informazione e della comunicazione. Iniziamo col question time. Peccato che ve le faccio io e non me le fate voi, perché evidentemente non possiamo interagire se non poi attraverso il software. Comunque, la prima domanda che vi pongo rispetto alla lezione precedente è quali sono i rapporti fondamentali che intercorrono tra un ufficio stampa, sbarra, ufficio o agenzie di relazioni pubbliche e un'attezzata giornalistica? Quali sono gli strumenti fondamentali che uno studio di relazioni pubbliche usa per la relazione con i media? Quali sono i servizi fondamentali che uno studio di relazioni pubbliche può offrire? E poi, quali figure sono comprese e quindi formano una redazione giornalistica? E poi, come si fanno a filtrare le informazioni? Che nomenclatura, quindi che tipologia di valore notizia abbiamo studiato a lezione? Queste sono le domande di comprensione della lezione precedente. Oggi, chiaramente, approfondiremo un altro argomento molto molto importante. L'argomento, in qualche modo, che a mio avviso è l'argomento culmine del nostro corso, che concerne le teorie delle comunicazioni di massa. Quindi parliamo proprio delle pospettive teoriche delle comunicazioni di massa. Siamo sempre nella parte terza del libro e in qualche modo comprende tutta la terza parte del libro. Avremo quindi adesso, da oggi, da adesso fino alla prossima, forse anche alle prossime due lezioni, ci soffermeremo su ogni singola teoria. Chiaramente, avremo un susseguirsi di teorie e vi chiederei veramente di approfondirle. Sono difficili, sono a volte ostiche. Veramente, per lo studio vi chiederei di ragionare per mapping mentali. Costruitevi veramente degli assi trasversali attraverso i quali dovete approfondirli. Gli assi trasversali, ve li anticipo, potrebbero essere l'immagine che si ha dell'utenza, dei mezzi di comunicazione di massa attraverso, chiaramente, la rilettura di queste teorie, o anche il concetto di manipolazione, per esempio, che è un concetto importante, soprattutto focale, per alcune delle teorie. Comunque, iniziamo. La carrellata è la seguente. Noi inizieremo dalla teoria dell'agropeodermico, passeremo al Pain-Fan-Studies, la teoria degli effetti limitati, la teoria del flusso di comunicazione a due stadi, la teoria critica o la scuola di Francoforte, prospettive, usi e gratificazioni all'interno del paradigma struttural funzionalista, il cultural studies, modello Ecofabri, citato e basta, Scuola di Toronto, modello dei differenziali o scarti di conoscenza, la spirale del silenzio, la teoria della coltivazione televisiva, l'ipotesi dell'agenda setting e la teoria della dipendenza dei media. Teoria della dipendenza dei media, che in qualche modo sul manuale viene fatta rientrare nelle ipotesi dell'agenda setting, mentre nelle dispense la trovate approfondita. Quindi, mi raccomando, sappiate che c'è una parte da studiare soltanto, in qualche modo, sulle dispense. Come anche i Pain-Fan-Studies. Nonostante un secolo di riflessioni, ancora i mass-mediologi non sono riusciti a creare un corpo scompatto. Quindi, al momento, come l'elenco vi ho appena fatto, ci troviamo di fronte a un insieme di teorie parziali, che in qualche modo fotografa un aspetto, trascenderne un altro in tutta la storia della comunicazione di massa. È ovvio che una delle questioni fondamentali è che, soprattutto in Italia, per esempio, la questione della ricerca, di finanziamento della ricerca, è molto molto delicata, e quindi, dato che i fondi sono pochi, si dirigono verso quelli che sono decretati in mainstream, gli argomenti più importanti da trattare, come la povertà, le differenze di genere, e via dicendo. Mentre, probabilmente, anche le comunicazioni di massa, soprattutto per l'impatto modellizzante che possono avere, e per il fatto che comunque rappresentano un bacino informativo e di seconda socializzazione importante, invece dovrebbero essere rilanciate in qualche modo. Iniziamo dalla teoria dell'ago ipodermico, ci troviamo nei primi decenni del Novecento, ci troviamo in un momento chiaramente storico particolare, prima guerra mondiale. La teoria dell'ago ipodermico, detta del proiettile magico, si ubica in un momento in cui si afferma il capitalismo, in cui il processo di urbanizzazione ormai sta veramente evidenziandosi, e quindi sta espandendosi, e ci troviamo di fronte a un momento di soluzione dei legami tradizionali e comunitari, quindi è proprio il momento anche dell'industrializzazione e quindi del lavoro in serie e via dicendo. Cosa dice la teoria dell'ago ipodermico? La teoria dell'ago ipodermico sostiene che il messaggio dei media sia fortissimo, sia fortissimo che abbia una capacità manipolatrice molto alta e che sia capace di superare ogni tipo di barriera che non c'è rispetto all'utenza. Quindi il proiettile magico perché è ipodermico? Perché riesce, il messaggio mediatico riesce a inocularsi sotto la pelle del pubblico producendo poi un certo tipo di effetto. Alla base, quindi come presupposto teorico di questo modello, abbiamo il modello pavloviano comportamentista SR, stimolo e risposta, e noi sappiamo da questo modello che è stato applicato allo studio degli animali che a uno stesso stimolo corrisponde una e una sola risposta. Ciò significa che ci troviamo di fronte a un'utenza, secondo quell'immagine di questa teoria, massa. Massa perché è incapace assolutamente di reagire a questo messaggio, massa perché non ha strumenti, massa perché è un insieme di individui atomizzati, allineati, privi di legami tra loro e sono soli di fronte al messaggio mediatico. Chiaramente ragazzi, questa teoria è una teoria dell'inizio del Novecento, oggi non sarebbe più applicabile. Perché? Innanzitutto perché lo stimolo e risposta, secondo questa teoria, sono unità indivisibili e il loro rapporto è definito attraverso la causalità, l'immediatezza e la necessità. E chiaramente troviamo un pubblico che è inerme e inerte al messaggio mediatico e quindi è incapace di rispondere in qualche modo. Mentre oggi ci accorgiamo che invece attraverso, ma semplicemente anche la segmentazione dei pubblici, ci accorgiamo che ognuno percepisce in base al grado di coinvolgimento, o il livello di istruzione, in modo diverso il messaggio mediatico. Secondo questa teoria, i postulati in base sono il pubblico è una massa indifferenziata, i messaggi dei media sono potenti fattori di persuasione, gli individui sono indifesi avanti i media, i messaggi vengono ricevuti da tutti i membri allo stesso modo. Parliamo, siamo nell'ambito della propaganda politica. Quindi capiamo perché è il grande influsso che i mezzi di comunicazione di massa, per esempio la radio per Hitler, o il cinema per il fascismo, hanno avuto così, anche se in un secondo momento, sono stati così fortemente voluti e imbrigliati anche dal potere vigente. Dall'ago ipodermico noi passiamo alla teoria degli effetti limitati dei media. Chiaramente cosa succede? Che la teoria degli effetti limitati dei media rappresenta un po' il progresso della ricerca in ambito della teoria della comunicazione di massa rispetto alla precedente teoria, anche perché comunque anche gli studi di psicologia vanno avanti, gli studi cognitivi vanno avanti, e ci si accorge attraverso OVLANV che i presupposti di Pavlov dovranno essere superati. E OVLANV aggiunge al modello SR le variabili intervenienti, dette IV, che condizionano chiaramente come dei filtri creano maggiori domande, diversificano le domande, perché diversificano al loro interno l'utenza stessa. Quindi appunto per questo parliamo della trasformazione di utenza come pubblico massa a utenza come pubblici, pubblici diversificati. E chiaramente in questa teoria degli effetti limitati è molto importante il contesto di fruizione e soprattutto il fatto che i pubblici scelgono quello che vogliono vedere, quindi la capacità selettiva del pubblico stesso. Nelle variabili intervenienti, e quindi in qualche modo effetto limitato, perché ci sono dei filtri proprio che si pongono tra lo stimolo e la risposta come effetto, possiamo trovare le variabili sociodemografiche, gli atteggiamenti, le opinioni preesistenti, quindi vissuti, e dall'altra parte tutti i processi psicologici individuali, l'interesse, l'esposizione, la percezione, la memorizzazione selettiva. Chiaramente il contesto diventa importante e quindi ci accorgiamo che corrispondono a ogni messaggio più effetti possibili. Quindi vedremo, in qualche modo diminuisce questo aspetto manipolativo forte che era stato dato ai mezzi di comunicazione di massa. Precedentemente, giusto per citarla, citarli perché saranno molto importanti in termini proprio di anticipazioni che hanno dato, sono i Pinefound Studies, che sono interessantissimi innanzitutto perché è un modo per fare ricerca sui media, loro si occupavano fortemente sulla visione cinematografica, e poi loro hanno anticipato che cosa l'aspetto modellizzante dei mezzi di comunicazione di massa. Quindi sono importanti appunto per questo, non possono essere ignorati per questo motivo. Dopo la teoria degli effetti limitati, passiamo alla teoria del flusso a due stadi. In questo caso il contesto diventa ancora più importante e in qualche modo ci avviciniamo a, se vogliamo un po', a una visione, a un ragionamento quasi metropolitano. Nel flusso a due stadi di comunicazione ci si accorge che il messaggio mediatico viene filtrato non tanto dalle caratteristiche specifiche di ogni ricettore, di ogni utente, che intercette in modo diverso e filtra in modo diverso quel messaggio. bensì da un opinion leader. Chi è l'opinion leader? L'opinion leader è qualcuno che la comunità riconosce, a cui la comunità riconosce un valore, un valore culturale, un valore segnico, un valore professionale, quindi un interprete. L'opinion leader in questo caso è un interprete. Chiaramente non parliamo di sgarbi, come potremmo pensare oggi, non parliamo di Beppe Grillo, bensì pensiamo a un sacerdote, pensiamo a un insegnante, un professore, un uomo politico, il sindaco, che la comunità identificava come soggetto tramite da cui poteva sicuramente immagazzinare maggiore conoscenza. L'opinion leader è colui il quale si interpone tra il messaggio mediatico e l'utenza, filtra il messaggio mediatico e lo interpreta all'utenza. Chiaramente cosa significa questo? Che anche l'aspetto manipolativo dei mezzi di comunicazione di massa in questa teoria viene meno. Viene meno chiaramente esiste, ma è sicuramente più marginale rispetto alla teoria degli agli ipodermi, per esempio, perché questi opinion leader filtrano l'informazione e la rienterpretano. E in questo caso ci troviamo di fronte al fatto che la comunicazione interpersonale quindi utenza, opinion leader, anche perché l'utenza riconosce quel ruolo importante all'opinion leader, perché è l'utenza che se lo crea. Non è che l'opinion leader si pone lì creato dai mezzi di comunicazione di massa, tutt'altro. Diventa, quindi la comunicazione interpersonale tra questi due soggetti diventa molto più forte della comunicazione mediatica che viene, che appunto mette in relazione i soggetti con i mezzi di comunicazione di massa. E chiaramente è fortemente importante quindi l'effetto rete sociale. L'effetto rete sociale è l'effetto del contesto. I media infatti sono solo capaci di effetti diretti al rafforzamento di opinioni, valori o atteggiamenti già presenti nel pubblico e non possono generare conversioni o cambiamenti radicali. Quindi capiamo che il concetto di manipolazione già inizia a essere fortemente minacciato e quindi inizia a crollare. E in qualche modo qui torniamo al discorso di pubblici ma anche di un'idea di utenza come gruppo sociale che riconosce delle autorità e dei ruoli. A questo punto oltretutto c'è una variante oggi sociologica molto importante di questa teoria che è la teoria a molti stadi perché appunto il rapporto e quindi in qualche modo le relazioni sono così tante e formano un reticolo complesso dove chiaramente più relazioni interpersonali vanno a mediare più relazioni mediatiche. Detto questo invece ci avviciniamo alla teoria a una teoria importante una teoria fondamentale delle comunicazioni di massa perché poi è una teoria che ha condizionato il paradigma rispetto proprio alla sociologia e ci riferiamo alla teoria della scuola di Francoforte o la teoria critica. In primis prima di approfondire questo aspetto bisogna iniziare a dire che una nomenclatura che poi è stata espressa da Eco divide le teorie della comunicazione di massa in approcci apocalitici approcci integrati chiaramente l'approccio apocalittico come l'apocalisse di San Giovanni è un approccio molto critico in cui si dà tantissimo peso alla possibilità veramente manipolante dei media mentre quelli integrati sono sicuramente versioni più moderate e che si percepiscono l'importanza di questi mezzi di comunicazione e anche il loro potere chiaramente però evidenziano anche gli usi e le possibilità che ne offrono chiaramente se noi volessimo pensare e lo facciamo solito per queste prime teorie quali possono essere integrate con le apocalittiche è ovvio che voi me lo sapete dire sarà l'apocalittica la teoria dell'acoipodermico mentre sarà più integrata la teoria degli effetti limitati come anche la teoria dei due stadi della comunicazione entriamo quindi entrando nella teoria critica noi in qualche modo riprendiamo la teoria dell'acoipodermico in qualche modo c'è un passo indietro un passo indietro perché chi forma la scuola di Francoforte ha un'impostazione molto fortemente legata al marxismo critico e poi quindi come presupposto teorico e dall'altra parte il presupposto teorico dello stimolo risposto di Pavlov appunto perché la scuola di Francoforte sosteneva veramente la capacità di questi mezzi di comunicazione di massa di manipolare profondamente l'utenza che era anche qui incapace di difendersi quindi ancora massa quindi è importante appunto il concetto di massa in questo tipo di in questa teoria che appunto è un'entità incapace totalmente di muoversi in maniera autonoma è priva di identità priva di controllo priva di disgregata totalmente eterogenea e poi perché a loro avviso secondo la teoria critica noi ci troviamo di fronte a un sistema mediatico che è pari a un'industria culturale quindi ha una sistematicità a un'organizzazione pari a quella di un'industria però in questo caso i beni di consumo sono beni simbolici che vengono standardizzati omogenei quindi resti veramente omogenei tra di loro e ciò crea bisogni crea falsi bisogni falsi bisogni che poi creano chiaramente un processo di allineazione quindi citando Marx perché gli sede di coloro che fanno parte di questo sistema non possono permettersi quello che stanno in qualche modo producendo il discorso forte è che sia la scienza quindi il progresso secondo la scuola di Francoforte e sia il sistema dei media è fortemente condizionato dal potere dominante il potere capitalista potere che ha chiaramente volontà di rendere uniforme la massa annientare il senso critico tagliare le gambe a ogni forma di proposta alternativa tanto che nell'epilogo di questa teoria Marcuse parlerà dell'uomo a una dimensione e quell'unica dimensione che ha è quella forgiata dai media chiaramente è ovvio che ci troviamo di fronte veramente a una mercificazione di questo bene la critica è spietata quella di la critica della scuola di Francoforte è spietata rispetto ai metodi di comunicazione di massa e bisogna anche dire che la realtà che fotografo è quella più americana che non quella europea molto fortemente concentrata quella americana sulla pubblicità concludo chiaramente sintetizzando questa teoria perché è importante a un certo punto tornare in questa teoria l'offerta determina il tipo di consumo e gradimento la domanda le risposte dei consumatori tendono a omogeneizzarsi e appiattirsi su ciò che viene offerto loro e l'uomo contemporaneo ha una dimensione quella offerta dai media quindi creazione di falsi bisogni i media inventano e legittimano falsi bisogni il limite il limite più grande è che la teoria della scuola di Francoforte è una teoria filosofica è una speculazione che non contempla ricerche sul campo è l'unico chiaramente l'unico riferimento è il modello SR e quindi ciò significa veramente diventa a volte fortemente esagerato fortemente estremizzato questo tipo di approccio dietro cui si nasconde una critica forte nei confronti dell'ideologia dominante con la capitalistica e anche della capacità di alcuni di alcuni stati a poi aver creato forme di manipolazione e propaganda fortissime tanto che la maggior parte dei francofortesi fu costretto all'esilio appunto perché di matrice ebrea oppure dei stenti di matrice chiaramente legata alla sinistra marxista che si opponeva alla visione itleriana quindi la visione veramente nazista della Germania di quel tempo e quindi che aveva riletto anche in modo diverso la realtà circostante e utilizzava per esempio i media in modo molto assolutamente massiccio vi ringrazio mi raccomando quindi le domande per capire se abbiamo compreso questa lezione sono l'immagine offerta l'immagine dell'utenza offerta di queste teorie di che tipo è quali sono i presupposti teorici di queste prime teorie e poi cosa si intende per industria culturale e perché la scuola di Francoforte è detta apocalittica e con questo vi saluto vi auguro un buono studio e riprendiamo la prossima volta arrivederci